Era una partita che ovviamente era molto importante per noi e penso anche per loro, andare avanti in questo percorso per noi era una cosa molto importante, ci tenevamo molto e dispiace essere usciti così per una ripartenza, poi sono stati anche bravi nel ripartire, si è vista anche la loro qualità, con due passaggi sono arrivati in porta e hanno fatto gore. Nonostante i cambi l'Udinese è stata molto compatta, molto solida, prima abbiamo parlato con padre che era la prima da titolare, è stata una bella dimostrazione del gruppo anche al mister di essere molto presenti tutti sul pezzo? Sì, io penso che abbiamo dimostrato di essere tutti pronti e di cercare tutti di interpretare quello che è il pensiero e quelle che sono le richieste del mister, poi gli interpreti li sceglie lui, però io penso che tutti dobbiamo avere la stessa concezione di vedere le partite e come interpretarle e quindi gli uomini dovrebbero non essere importanti. Simone abbiamo fatto anche una parentesi su quello che è il format della Coppa Italia, è sempre un tema aperto, tu anche da Friulano magari sarebbe stato meglio giocare nel nostro campo, che pensiero c'è magari anche all'interno della squadra si favoriscono sempre un po' le grandi? Ma questo penso che non sia quello a cui dobbiamo pensare oggi, noi oggi avevamo una partita importante alla quale ci tenevamo e sulla quale eravamo molto concentrati a prescindere da dove si giocasse, poi ovviamente si preferisce sempre giocare in casa, però comunque l'importante è poi giocare perché quello che conta è il rettangolo delineato da linea bianca e quello che succede fuori non è un nostro problema.